Buongiorno, siamo a The Rue Radio, io sono Francesca e insieme a Claudia curiamo il podcast della rubrica del gruppo di attualità Noi Barbari e il barbaro in questione oggi è Feizan. Ciao Feizan, come stai? Ciao, sto bene, sto bene, grazie. Vuoi dirci qualcosa in più di te? Beh sì, qualcosina la posso dire. Dai, ascoltiamo. Non so, da dove posso cominciare? Quanti anni hai? Io ho 25 anni, 26 a breve. Ok, da dove vieni? Qual è il tuo paese d'origine? Il mio paese d'origine è il Pakistan, la bellissima terra del Pakistan, cosa incredibile. Quando sei venuto qua? Nel 2001, sì, vent'anni fa. Ok, quindi avevi all'incirca 5-6 anni. Sì. Hai frequentato l'elementari, quindi, qua in Italia. Sì, 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 sì. Ho cominciato frequentando proprio la prima elementare. Dove l'hai frequentata? A Brescia. Brescia, Brescia. Ok, avevi pregiudizi nei confronti degli italiani? Come ti sei rapportato con gli altri bambini? Sembra una domanda banale, ma... No, vabbè, ma non è banale, in realtà. Anche se io all'età di 6 anni non avevo granché di pregiudizi verso gli altri, anzi era tutta una questione di curiosità e non vedevo l'ora di esplorare, diciamo, questo nuovo mondo che era l'Italia per me. Perché era tutto nuovo, cioè nulla era simile a quello che avevo vissuto in Pakistan e quindi era come se avessi un giocatore nuovo a un bambino che stava sempre lì a controllare, a giocare, a vedere. Quindi non avevo pregiudizi e mi sono divertito. E quindi, restando nella curiosità, possiamo dire anche il comportamento che hai avuto, comunque hai visto negli altri, che ti è sembrato strano, ovviamente, vedendo... Beh, una cosa che era strana era come, tipo, quando ero in Pakistan c'era la divisione all'interno della classe tra maschi e femmine, che i maschi stavano da un lato e le femmine dall'altro. E quando sono arrivato qua, chiaramente questo concetto non esisteva. Era tutto misto. Chiaro. E quindi per me era un po' strano e quindi i comportamenti, anche tipo, no, il modo di rapportarsi con gli altri, con i compagni di classe, soprattutto le compagnie di classe, per me era un po' difficile perché mi veniva l'ansia. È stato difficile quindi integrarsi, soprattutto con le bambine. All'inizio sì, sì, tanto è che mi davano spacciato come un caso umano, senza speranze. Invece eri soltanto timido. Ero timido all'ennesima potenza, sì. E qui parliamo di Italia. Ti sei spostato in altri paesi, hai viaggiato? Sì, 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 sì. Quando, diciamo, nella mia adolescenza non ho fatto grandi spostamenti al di fuori dell'Italia. Sono andato in Inghilterra per un paio di anni, ho vissuto lì per un paio di anni. Però poi in età un po' più adulta per lavoro ho viaggiato nelle posti. Per esempio? Per esempio sono stato in Uganda, in Africa, per lavoro. Per lavoro, sì. Ok. In Italia hai vissuto soltanto a Brescia o anche lì hai spaziato? Sì, 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 sì. A causa del lavoro di mio padre eravamo... O grazie. O grazie al lavoro di mio padre, effettivamente. Anche se io, per me è stata sempre una colpa, era un'accusa per mio padre questa cosa perché io, cioè, eravamo tipo dei nomadi. Ogni un anno, due anni era tipo, ok, prendiamo tutto e ci stiamo spostando. E quindi c'è stato Brescia, Milano, Firenze, Roma, Napoli, poi di nuovo Roma, poi di nuovo Napoli, cioè insomma vari giri. Quindi in fase di crescita hai avuto tantissimi stimoli diversi da altri gruppi, da altre e quindi... Sì, sì, in un certo senso sì, però... Quindi molti più gruppi? Vedi, tu penseresti che sia così, ma la realtà dei fatti è che ero solo come un cane perché non avevo... Non me l'aspettavo. Non avevo amicizie. Nella serie che, o meglio, le amicizie ce le avevo. Nella serie che stavo lì, stai un anno in un posto, no? È chiaro che un po' piano piano col tempo ti costruisci le amicizie. Ci vuol tempo. Però poi, dopo un anno che si può dire, ok, ora siamo amici, io dicevo, ok, è stato un piacere, addios. Ci teniamo in contatto. No, non esisteva neanche Facebook, figurati. Quindi è stato molto difficile. Sì, sì. Quindi senza Facebook è stato anche molto difficile tenere i contatti di tutti questi gruppi in giro per... Sì, sì, senz'altro, perché comunque non c'era modo, come magari oggi c'è l'immediatezza del tenere il contatto di una persona. Allora, figurati, anche il telefono, anche tipo il Nokia, la Granata, era un lusso quello. Ok. E quindi, cioè, io mi ricordo del 2008, uno, quando ho iPhone, smartphone, io ero tipo, una cosa incredibile che mi stava scoppiando la testa e me lo volevo a tutti i costi. E i miei che mi dicevano, soggetterò, non succederà. Col binocolo. Col binocolo. Quindi sì, era molto difficile tenere contatti di persone, perché li vedevi sempre a scuola, gli compagni, quindi... Oppure c'era il parco, quindi era deciso a quell'ora, così via, quindi... Quindi con tutti i gruppi che hai avuto sicuramente ti sarei trovato meglio in certe situazioni che... o in altre, quale... Che ricordi hai di questi gruppi? Ma certo, senz'altro mi sono trovato meglio in alcuni rispetto ad altri e le memorie, è chiaro, diciamo, sono un po' miste anche quelle, cioè non sempre è bello, non sempre è brutto. Però diciamo che un gruppo in cui mi sono trovato non molto bene era quando sono arrivato in Sardegna, ma non peraltro perché in classe ero l'unico straniero. Ok. Mi sentivo osservato da tutti i punti di vista, quindi lì è stato un po' di... Qui, qua, qua a Sardegna è stato un po' difficile all'inizio, però poi ho trovato un po'... La retta via, come si dice. E quindi hai studiato, hai lavorato, come hai detto, in varie parti del mondo, ma con tutti questi paesi qual è quello che chiami casa? O se necessariamente dovresti mettere l'etichetta di casa a un paese o a una regione? A casa, senz'altro, sarebbe l'Italia, perché è una sensazione, poi, deve essere che viaggiando anche per lavoro e andando in diverse parti del mondo, quando sto tornando qua, la sensazione è quella che sto tornando a casa, perché comunque gli amici, la famiglia, la vita è tutta qua, quindi per me è difficile immaginare tutto quello che ho costruito in qualsiasi altro luogo nel mondo. Quindi quando sei in altri paesi la sensazione è che percepisci dell'Italia è che sia la casa, il ritorno, quindi. E quando invece sei qui, quindi a casa, che sensazione provi o cosa provi del Pakistan, che è il tuo paese d'origine alla fine? Beh, sì, diciamo che oltre al fatto che le mie origini sono lì ed è comunque, fa parte di me in un certo senso. Comunque hai una parte della tua famiglia lì? Sì, 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 sono una grossa parte della mia famiglia, tipo di nonni, zii, cugini, l'esercito di cugini che stanno lì, ogni tanto vado a trovarli, però con lì mi sento una specie di turista, tant'è che mi prendono in giro anche quando vado lì, mi chiamano, mi chiamano lo straniero. Perché? Perché parli... Perché non conosco i modi di fare, perché il mio accento non è lo stesso, perché il mio modo di ragionare, il mio modo di pensare è diverso, quindi, cioè, insomma, mi fanno capire che, ok, che sul passaporto c'è scritto che sei pakistano, ma non sei proprio pakistano. E questa sensazione la ritrovi anche qui in Italia, per caso, che è casa? A volte sì, a volte sì, capita, però diciamo che penso che alla fine dipenda tutto da quali persone ti circondi, perché alla fine c'è sempre qualcuno che non è d'accordo. Come si dice che noi siamo la risultante dalle cinque persone più vicine a noi, no? Esatto, 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 esatto. Quindi dipende dalle persone che ti circondi, che è perfetto come linea di vita. Sappiamo che in Italia ci sono delle comunità, comunque, originali di Pakistani, come per esempio ci sono delle comunità italiane in altri paesi, soprattutto dovute all'emigrazione degli anni 50, dove all'interno, appunto, si parla il dialetto, quindi un gruppo di italiani che si ritrovano in un altro paese e che comunque fanno comunella. E allo stesso modo, ci sono le persone originarie del Pakistan in Italia nelle stesse comunità. Tu, la tua famiglia, ne fate parte o comunque che sensazione provi quando magari hai avuto la volontà, non so più come continuare. No, vabbè, diciamo che sì, ci sono senz'altro le comunità, anzi la comunità pakistana è spezzettata ed esiste in tutte le principali città italiane, come quindi anche qua. E la mia famiglia non ha proprio interamente fatto parte di queste comunità attivamente, ma solo marginalmente perché per alcune amicizie di mio padre, mio padre frequentava un po' quell'ambiente. Io personalmente non mi sono mai avvicinato, ci ho provato un paio di volte ad avvicinarmi a quell'ambiente, perché speravo di trovare persone come me, che diciamo capissero il mio punto di vista. Però non è così, cioè, non le ho trovate perlomeno nella comunità pakistana locale, perché per fare in modo che, per fare in modo di trovare una persona simile a me, cioè ci deve essere, anche la storia deve essere simile, no? che è venuto in Italia giovanissimo e poi magari cresciuti qua e... Magari non necessariamente la storia, ma come la si pensa o comunque come è orientato dal pensiero. Sì, certo, ma vedi, ma il pensiero è che, cioè praticamente spesso e volentieri i ragazzi che vengono qua sono, vengono già tipo nell'adolescenza tipo 18 anni. Quindi sono già avviati. 19 anni, quindi il modo di parlare, il modo di ragionare, di esprimersi di queste persone, non è, cioè è diverso, perché comunque hanno già una scala di valori e... La società diversi. Già formate, sì, esatto. Sì, la società diversa l'ha già formata in un modo diverso da come magari sei stato formato tu in Italia o in Inghilterra o in altri posti. Quali sono i pregiudizi che magari avrai incontrato dei pakistani sugli italiani? I pakistani sugli italiani, beh, diciamo che è un pregiudizio, c'è, ma è un pregiudizio comune. Immagino che anche qualsiasi comunità straniera in un determinato paese penso che... Pizza mafia mandolino. Cosa? Pizza mafia mandolino. No, 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 in realtà no, 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 viene da pensare che verso più una questione di razzismo e di... Cioè, diciamo, le persone straniere quando vengono qua, non necessariamente sono pakistani perché è un pensiero comune, pensano che avranno ostacoli, avranno difficoltà e verranno bloccati in modi che, insomma, non avranno le stesse opportunità. Questo è il pensiero generale. Poi, anche se ad alcuni succede, mentre invece ad altri non hanno problemi e riescono a procedere abbastanza semplicemente. Quale pensi sia il problema alla base di questi pregiudizi di noi italiani? I pregiudizi... Ah, i pregiudizi da parte degli italiani verso... I baltistani. O comunque gli stranieri. Beh, insomma, penso che sia una... Anche questo penso che faccia parte della natura umana, perché... Quando viene... Anche per esempio il nostro corpo, quando c'è un agente esterno, il nostro corpo non... Prima deve controllare che vada tutto bene e così via. Quindi penso che... Fa proprio parte del nostro essere umani, che quando c'è qualcosa di... C'è una cultura diversa, c'è una... Una persona che è diversa. E all'inizio c'è quel conflitto, che poi non necessariamente deve essere... Deve essere, diciamo, non scrutinare una persona. E essere tipo open-minded sarebbe la cosa migliore, però... Ogni persona è diversa. Non tutti la pensano così. Ovviamente. E perché... Vivi in Italia da quando avevi sei anni, hai detto. Sì. E sei riuscito a prendere la cittadinanza italiana? No. E perché? Non ancora, non ancora. Beh, perché... Perché è così difficile prenderla? Perché diciamo che in Italia c'è ancora una legge che personalmente trovo antiquata su questo argomento. È abbastanza obsoleta, sì. Sì. Stiamo parlando del 92. Ed è molto... C'è tanta burocrazia. C'è... Ci vuole tantissimo tempo. Cioè, la procedura è lunga, è complessa, è prolissa. E ci sono vari requisiti. E quindi... E anche questi requisiti vanno in termini di anni. Cioè, tot anni di residenza, tot anni di reddito dimostrato. Quindi pensi che Costeiter vada cambiato, necessariamente? Anche le iniziative come YouSoli, YouSkulture. Io sarei d'accordo con questo tipo di iniziative, perché comunque garantiscono un diritto che è essenziale per ragazzi e ragazze come me, che siamo in migliaia in tutta Italia, che magari non abbiamo ancora la cittadinanza, anche se sentiamo di essere praticamente italiani. Magari si dice, torna al tuo paese, ma se io nel mio paese ci sono solo nata, a un anno sono arrivata in Italia. Esatto. Non sono nemmeno le vie, per esempio. Esatto, un po' come dice anche Gali, no? Nella canzone. Quando gli dicono, torna a casa tua, lui dice, io sono già a casa. Quindi è molto così che la visione del mondo spesso e volentieri è chiusa, in questo ambito specialmente. Però, diciamo, con un po' di impegno e magari con un po' di open-mindedness si potrebbe cambiare idea. Si potrebbe cambiare. E infatti questo è il nostro obiettivo, anche con questa rubrica, quindi cambiamento, non ignoranza. Come? Open? Open-mindedness. Alla prossima.